Luca Daffre si auto elimina a uomini e donne Maria De Filippi oggi fa notare un particolare sul corteggiatore Luca Daffre non è più il corteggiatore di Teresa Langella a uomini e donne almeno questo si è compreso dalle anticipazioni della registrazione del trono classico di ieri scendendo nel dettaglio l'ex tentatore della passata edizione di Temptation Island ha deciso di auto eliminarsi dal programma questa scelta è stata presa da Luca dopo un gesto fatto da Teresa l'atronista ha voluto mettere alla prova i suoi corteggiatori ha fatto sapere loro che non sarebbero usciti per l'esterna nel corso della settimana dopo ciò Teresa non ha visto ciò che si aspettava tutti sono stati eliminati dall'atronista fatta eccezione proprio per Luca infatti il corteggiatore ha deciso di non prendere parte alla registrazione auto eliminandosi la Langella andrà a riprendersi Daffre? l'atronista ha fatto notare che la sua è stata l'unica reazione coerente dunque potrebbe decidere in settimana di andare a convincere Luca a tornare nel programma punto non si sa bene come procederà il percorso della Langella punto e mentre nel corso della registrazione di ieri Luca non si è presentato in esterna ecco che nella puntata in onda oggi si trova in studio dopo un'esterna molto carina sulla spiaggia Daffre è in studio a discutere con Andrea dal corso tra loro era nata una forte amicizia nel reality delle tentazioni il rapporto si sarebbe rovinato proprio perché entrambi si ritrovano a corteggiare Teresa secondo Luca Andrew non avrebbe dovuto accettare di restare nel programma per la Langella nel frattempo Maria De Filippi fa notare un dettaglio molto importante la conduttrice si è resa conto del grande successo che Daffre ha raggiunto in questi mesi il corteggiatore sembra essere entrato nel cuore di molti telespettatori pare però che il pubblico dovrà fare a meno di Luca punto Teresa Langella perde Luca Daffre la tronista lo rincorrerà il pubblico ama Luca e sin da subito ha consigliato Teresa a portarlo in esterna infatti nel corso delle prime settimane la Langella preferì uscire con altri ragazzi Daffre decise quindi di auto eliminarsi in quanto non voleva più attendere così la tronista scelse di portarlo finalmente in esterna ed ecco che Maria nella puntata di oggi annuncia che Luca è molto amato dal pubblico ma ormai sembra che la sua esperienza nel programma sia finita Teresa farà un passo indietro e lo andrà a cercare sui sociali telespettatori chiedono alla tronista di correre subito da Luca a cercare sui sociali telespettatori chiedono alla tronista di